Ma che stanno aspettando? La fila sta facendo Sto facendo Sto facendo un po' di qua E' un palo rosa Quello, quello l'ho scompiato Si è tirato a testa Si è suicidato Questa crisi, anche il fatto che sta suicidando E' caduto Si è sbattuto al muro E' caduto a terra Ha iniziato a vomitare il sangue Ed è morto Ma è stato attaccato dalle Dalle cornacchie Si, è stato attaccato Cioè tu hai visto proprio che è stato attaccato Si, tutto in branco l'hanno attaccato Tutto in branco 150 cornacchie Tutto in busto 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 Grazie a tutti.